E' aperta fino all'8 novembre al Museo Leone di Vercelli la mostra L'alba delle autonomie, 11 volumi originali di statuti medievali, introdotti da 10 pannelli esplicativi e da un video, che ne illustrano l'importanza storica. Stupire, incuriosire e coinvolgere il pubblico attraverso le opere artistiche è l'obiettivo della mostra I bianchi per caso raccontano, fino al 10 novembre all'ufficio Relazioni con il pubblico del Consiglio. A 50 anni dalla morte di Arrigo Frusta, uno dei primi e più importanti sceneggiatori del cinema mutuo italiano, il Consiglio, con il Museo del Cinema e il Centro Studi Piemontesi, ne omaggia la memoria con un'esposizione nella Biblioteca della Regione, fino al 22 novembre. Proseguono inoltre le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito, allestite presso enti piemontesi. Fino al 31 ottobre sono allestite a Rivoli, Palazzo del Comune, La donna immaginata, l'immagine della donna e a Butigliera, sala consigliare, le eccellenze artigiane negli scatti di Lella Beretta.